G4More è un applicativo per la gestione delle fasi di intervento nella ricerca dispersi in ambienti impervi. Questo videotutorial vuole mostrare le sue principali funzionalità. La schermata iniziale è così suddivisa. Al centro si ha la visualizzazione della mappa, con la sua barra degli strumenti nella quale sono messe in evidenza alcune delle principali funzioni. In basso a destra vi è una finestra di zoom dalla quale è possibile inquadrare l'area interessata alla ricerca. A sinistra vi è una finestra di gestione dei layer. In questa versione demo sono stati caricate ad esempio alcune basi layer, come OpenStreetMap, Google Satellite, lo sfondo fisico e la carta tecnica regionale. Possono essere caricati a scelta alcuni reticoli cartografici, ne accendiamo uno ad esempio, le aree di ricerca create, se ve ne sono, le squadre di ricerca, i waypoints e le tracce scaricate dai device GPS. Altre informazioni possono essere caricate in base alle esigenze dell'utilizzatore. In questa versione demo sono caricati i confini amministrativi, alcuni dati provenienti da OpenStreetMap e le aree in frana. Da questa finestra si può inoltre accendere il layer dell'area potenzialmente raggiungibile dal disperso, la quale verrà calcolata con un apposito comando. In basso a sinistra vi è la leggenda. A destra, invece, vi è la finestra di gestione dei database associati, dal quale, aprendo il menu a tendina, è possibile gestire i dati del disperso, delle aree di ricerca, del personale, della formazione ed assegnazione delle squadre, ed inoltre è possibile avviare o chiudere l'intervento. Più in basso vi è l'elenco delle aree attualmente interessate alla ricerca. l'elenco delle aree create da questo elenco è possibile rendere visibile o meno ogni singola area ed è possibile farvi lo zoom. Il riepilogo si intende come riepilogo dell'intervento e di in basso a destra vi è il timer dell'intervento che viene azzerato ogni qualvolta viene chiuso un intervento. Grazie. Grazie.